Andrea Cocco, il vincitore Grande Fratello 11 nelle apps ufficiali, dopo ben 184 interminabili giorni si è finalmente conclusa l'undicesima edizione del Grande Fratello e a vincere questa edizione del reality show più seguito d'Italia è stato il modello Andrea Cocco, riuscito a battere la concorrenza del favoritissimo Ferdinando Giornano. Al terzo posto del podio troviamo invece l'esplosiva e carismatica Margherita Zanatta. Giunta davanti a Jimmy Barba ieri sera si è conclusa una delle saghe più lunghe della tv dei nostri giorni, in un'edizione del Grande Fratello che ha offerto diverse sfaccettature differenti e spunti di riflessione, che hanno letteralmente inchiodato al piccolo schermo milioni di telespettatori. Ogni lunedì sera davanti alla tv, per la finale di ieri sera addirittura si è assistito al record di Ascolti Ben, 6.622.032,79 di Share. Per milioni di italiani un vero e proprio impegno del lunedì sera, un apostrofo appuntamento imprescindibile. Gli italiani hanno dimostrato coinvolgimento e passione, ed in alcuni casi si sono riconosciuti in alcuni dei protagonisti della casa che hanno raccontato le loro storie, alcune delle quali davvero drammatiche. Visto il successo ottenuto quest'anno dal reality, è stata rilasciata all'interno dell'App Store un'applicazione dedicata ai fan, all'interno della quale potrete trovare tantissimi contenuti esclusivi relativi agli abitanti della casa di Cinecittà. Applicazione dove potrete rivivere tutte le fasi salienti di quest'edizione, i contenuti video che vi daranno la possibilità di seguire le migliori scene di vita all'interno della casa del Grande Fratello 11, le discussioni, i momenti di gioia, i pianti, gli amori, le antipatie. Tutto questo in una sola applicazione utilizzabile attraverso il vostro dispositivo con sistema operativo iOS. Grazie per la visione!